Benedetto, Martino e Simone sono tre piccoli pirati che non vogliono lavarsi le mani Benedetto, perché non apri il rubinetto? Perché l'acqua calda mi scotta per dispetto? Martino, perché scappi dal tuo lavandino? Perché ho paura di cadere nel buchino? Simone, perché non usi il sapone? Perché non vuoi scendere tu quel pirbone?